Io mi chiami un gol pure per un altro motivo, per il fatto che c'è la chiesa di San Agostino degli Scalzi verso via Santa Teresa a Napoli che la vogliono chiudere per mancanza di preti. C'era il povero Celestino, lo vogliono mandare via perché così stanno decidendo così. Ma che altro è quello che sto fatto? Perché quella chiesa è una chiesa importante, come si fa a chiudere la storia? In quella chiesa, voluta da Giacchino Murè, comunque quella chiesa ha ospitato la salma di Giacomo Leopardi. I funerali di Giacomo Leopardi sono stati svolti in quella chiesa e mi vogliono chiudere. Non si può fare. Anche perché Pierre Macchiè, che sono io, ha esercitato la sua prima esperienza proprio in quella chiesa. E quindi adesso cantiamo Leopardi a Napoli, perché Leopardi campò in quella via, via Santa Teresa, Bicopero, Pierro, Pierro, o hai un Leopardi a Napoli? Un, due, tre, quattro... Un, due, tre, quattro... Un, due, tre, quattro... Un, due, tre, quattro... In questa infamità, con l'aria stupense, non poco meglio stai, a bere fino a mare, tu solo tu ne vai. Silvia, rimbri ancora la stuna pulitana, vuoi numero da me? Buon un gelato che mi mangia, dire tre, scrivo all'Italia che non si scorda te. Ha, 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 ho no, ma da qui va, da qui scherzi la, da qui scherzi la. Scherzi la... Scherzi la... E' sul, tu hai, sì, scherzi la... Tuoi numeri, tuoi numeri, la tua numeri, tuoi numeri, te ne voli ai bacchi di Napoli, perché? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.